allora 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 io partirei raga dalla notizia della giornata questa qui la dinamo non ha più risposto alla fiorentina salta tutto io penso così andiamo subito su questo che colpe ha la fiorentina se bella non parte ci dice l'amico che salutiamo ditemi la vostra io dico la vostra dico la mia dico la colpa è in due mesi io metto in tutto il mese di dicembre e il mese si può dire il mese di gennaio non essere riuscita a intavolare trattative per le cessioni determinati giocatori cioè vedo una cosa un pochino troppo ritardata sia in uscita che in entrata lo dico sinceramente vai mattia no vabbè secondo me era l'unica soluzione la dima la dinamo che poteva andare brecano saltata tutto quindi giocatore rimane da noi secondo me l'unica soluzione che rescina il contratto perché non ha mercato ma la frentina in questo caso ha una gran sfiga si può dire perché una riesci a piazzare brecano finalmente dopo venti giorni e cambiano allenatore direi che soltanto da noi possono succedere queste cose io comunque credo che brecano andrà via cioè lui in questo momento è vero che non c'erano altri interessi su una sernitana ma anche vero che lui voleva solo andare a dinamo senza dinamo è compito della gente andy bara se non ero si chiama trovare delle opzioni per il calciatore la frentina in prestito secco lo cede senza problemi e quindi secondo me in questa settimana ci sarà qualche pista vedremo se magari la sernitana che se l'ha parlato o qualche altro club io pensare che brecano non possa trovare in prestito secco per sei mesi una squadra ora è vero che danno l'ha fatto veramente male ma c'è non ecco corin per capirci che l'ha dovuto piazzare l'arri slimasol o come si chiama ma qualche parte però come ha detto jack il problema è essere arrivati così tardi a cederlo e il fatto che non sia arrivato ancora un sostituto perché te potevi anche comprare uno prima di cedere brecano come in estate per ti avevi preso bel tranne insola prima di cedere iovic cede tra virgolette quindi quella è la colpa della florentina sinceramente sinceramente però il fatto in sé per sé trovi qualcuno a guidarlo brecalo è arrivato l'anno scorso rientrante da un infortunio non aveva fatto la preparazione si è rinfortunato nuovamente ok nella partita con l'atalanta è rimasto un periodo fuori quest'anno sembra che non abbia acquisito quella brillantezza che lo renda un giocatore su cui fare affidamento anche nelle rotazioni lo dico sinceramente a pensarci bene c'è dove lo piazzi secondo me una soluzione si c'è non ci posso credere che non un agente non riesce a apprazzare un giocatore in prestito secco per sì ma c'è si parla oggi è il ventiquattro è il ventiquattro tra sette giorni il mercato si conclude poi parliamo anche di rodriguez poi affrontiamo anche il tema rodriguez una una cosa per volta ragazzi parliamo di tutto bello live bello diretto commento quella è stata sfortunata però perché l'ha parlato anche la gente se non erro l'ha riportata anche flavio le parole addirittura ha detto la gente che ha chiamato breccano la fiorentina questo ne parla della gente questo ne parla della gente la notizia di oggi è arrivata poi andiamo anche su questa notizia qui questa è la notizia di oggi che è arrivata dalla croazia può essere lanciata in italia è bloccata la cessione di breccalo perché da quello che fare la dinamo sta cambiando allenatore ora io vi torno subito un attimo vai io sono sincero onestamente vi dico la verità qui penso che la fiorentina ha colpe limitate nel senso se lui vuole andare lì ha sempre sempre voluto andare lì vi ricordate le parole della gente di della procura dei scusatemi dell'allenatore della dinamo zagabria che ha detto lo vogliamo e la trattativa stando avanti quindi da questo punto di vista so che qualcuno adesso vuole 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 che si spari a zero contro la società naturalmente ci sono degli errori ma li analizzeremo al momento giusto adesso però su questioni dove gli errori ci sono e sono adesso evidenti però vabbè al di là di questo stiamo su breccalo poi analizziamo tutto breccalo è una trattativa scritta è una trattativa tutti sapevano dove andare lì tutti sapevano dovevo andare lì non era l'unica società che lo ha cercato perché anche la salernitana ha fatto più di un sondaggio di lui capite bene che se poi la dinamo non risponde più alla fiorentina io non me la sento di dar troppe colpe alla società su questa questione poi bisogna capire tante robe però ecco su questa questione io colpe alla società non ne voglio dare onestamente no no concordo perché comunque c'è altre squadre sì però come io concordo sul fatto che in questa circostanza di breccalo non abbia colpe alla fiorentina perché la dinamo zagabria è deciso di cambiare allenatore e ha detto la società ha detto aspetto un attimo sto cambiando l'allenatore se bisogna spendere si parlava di 200 mila euro per il prestito oneroso e finire tutto quanto il budget di mercato della squadra e poi lo prendiamo e l'allenatore nuovo non lo vuole anche loro hanno detto sono soldi buttati via certo non lo metto in dubbio ma io ripeto te da boh non ti dico inizio dicembre da metà dicembre non sei riuscito a intavolare delle trattative in uscita che ti permettessero di fare delle trattative in entrata perché poi il succo della questione esce uno entra uno perché le liste sono piene non ti puoi permettere di mettere gente in tribuna fuori rosa o quant'altro cioè esce uno entra uno mi confermi flavio allora sì ma io penso che bregalo in ogni caso lo piazza no quindi non è tanto un problema di ecco non facciamo passare il messaggio che la fiorentina non sta prendendo l'esterno perché ha bregalo squadra ecco questo non è un passaggio no 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 la fiorentina non sta prendendo l'esterno perché non ce la stanno facendo poi capiremo il perché capiremo tante cose col passare dei giorni magari a fine mercato però non facciamo passare il messaggio che in cui il 24 gennaio possiamo dire tranquillamente il 25 gennaio la fiorentina non ha preso l'esterno che si sapeva da un mese anzi da un mese e mezzo anzi da tre mesi da sette mesi da perché bravo perché bregalo non lo stanno piazzando perché questa sarebbe una bugia con tutto il rispetto per tutti ecco e qui ci dice e allora perché non l'ha preso nico questa è la domanda che poi qui ci sono le responsabilità della società che adesso analizzeremo nome per nome chiaro però qui ci sono le responsabilità della società su bregalo bregalo voleva andare lì doveva andare lì avevano chiuso per andare lì se poi questi all'ultimo minuto perdono tempo e raga e onestamente mi dispiace anche mi dispiace anche su questa questione per la fiorentina perché siamo stati qui siamo stati tra virgolette pregato le trattative purtroppo si fanno in sette otto test alla fine perché le squadre che vendono i giocatore l'allenatore esatto se il ragazzo dice voglio andare solo a dinamo zagabria è un po come la vicina di ambrabat la scorsa estate cioè io voglio andare lì e devi tra virgolette non dico hai il coltello non è il coltello dalla parte del manico perché poi la società sa e la diamo zagabria e la te bregalo è fuori e di conseguenza fanno il loro gioco per prenderlo al meno possibile come tra virgolette ce l'hanno riusciti perché poi alla fine si è prestato un prestito secco all'inizio alla fine tempo lo è un prestito con diritto se non erro l'errore poi ci arriveremo a parlarne è la confusione perché secondo me la parola giusta è confusione che c'è nel mercato di entrata perché alla fine stanno infestando una grandissima confusione secondo me voi secondo voi su su bregalo poi passiamo su rodriguez diciamo tutto su rodriguez due minuti andiamo su rodriguez su bregalo adesso ragazzi voi lo dico voi adesso lo mettereste in campo no 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 già non rendeva prima ora in questa circostanza in questa situazione soprattutto anche il giocatore a livello mentale già con le valigie in mano c'è non ha neanche l'interesse lui perché non si sente parte integrante c'è proprio manca la voglia c'è anzi in questo momento sarà anche lui triste cioè passatemi il termine perché anche lui sa che si deve giocare dei chance per l'europeo e sta la gente a trovare una soluzione secondo me chiamare delle squadre secondo me bregalo alla segretà ci può andare cioè per dire all'empoli ci può andare ci sono squadre in cui bregalo può tornare al torino no perché cairo c'è anche all'estero secondo me qualcosa puoi trovare lui sarà fissato sulla dinosa gabria sì per dire perché lì sapeva che giocava a casa sua e ora vediamo per me riesce a piazzarlo da qualche parte in presto secco e speriamo che faccia bene che a giugno se lo prendano ufficialmente qualcuno questo è un bel tema ragazzi adesso va capito cosa fare va capito chi lo può lo prende quale sarà anche il suo di umore che mettetevi anche nei panni del ragazzo di certo lui non sta bene lui oggi è il quinto se ci sono tutti lui è il quinto e ti l'ha fatto vedere l'italiano che dopo la gara con l'empoli che era il secondo non abbiamo quasi più visto a parte nei casi in cui doveva metterlo per forza tra virgolette matti tutto bene sì sì è nato ossiasmatica che ne pensi di questa roba qui un secondo vai 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 chiedo riprenditi poi ti ti riaccogliamo al verona ci dice giuri guglielmo io non so al verona ci può andare sì forse al posto di incontro certo che sì ovvio c'è da capire l'ingaggio perché a 20 anni lo stipendio sarebbe stato tutto a carico ragazzi questo non è un particolare da sottovalutare perché sì la dinamo zagabria si sarebbe preso al giocatore in prestito versando 200 250 mila euro per il prezzo generoso ma soprattutto avrebbe coperto tutto l'ingaggio del giocatore ok anche la fiorentina dovrà tra virgolette tendere la mano e dividere la percentuale o così oppo me si dice la mia parte no 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 certamente bisogna vedere ecco però come ci dice anche il nostro piero il verona nella sessione di ingonge oltre altri giocatori ha già preso altri tre esterni quindi io sinceramente non la vedo io in italia in questo momento dalle cose che sono venute fuori mi viene in mente appunto la salernitana si era parlato anche di uno scambio di prestiti con di a sì ma non può essere uno scambio di prestiti no scambio di prestiti con di anno uno vale 15 milioni e l'altro vale lo so lo so lo so lo so lo so cioè a questi per farli incastri a modo dovresti cedere anche lì riuscire a trovare qualcuno che ti compra un zola e dai 15 milioni più break la salernitana se lui ci vuole andare perché poi bisogna vedere lì perché noi facciamo prestano gli scambi però una trattiva ci sono sette persone quando devi fare uno scambio sono qui sono 25 sono quindi è diverso dovranno trovare una soluzione ripeto questa questo di quindi